I salari si mantenevano mediocri e i regolamenti durissimi. La mia equità si rivoltava. Una copa onta mi invadeva sempre più di esser lì, inerte e inerme. Certi lavoranti che passavano dinanzi al cancello del giardino a gruppi uscendo dalla fabbrica con un riso sfacciato e sprezzante mi sembravano più di me degne di rispetto. E non osando quasi più uscire di casa, il grande giardino nella pompa autunnale mi vedeva vagare per ore come un'ombra. Ma, mia madre, non le andavo incontro, non vivevo già un po' come lei. Un malessere, una spossatezza generale mi assalirono. Un dubbio mi attraversò un istante la mente, che io stessi di nuovo per divenire madre? Il terrore onde fu investita mi diede una volta ancora la misura della mia miseria. Oh, fuggire, fuggire! Rinnovai a mio marito una domanda già respinta. Mi lasciassi andare presso mio fratello a Milano per qualche settimana. Quando ottenne il consenso la paura di una nuova maternità era svanita. Mio marito aveva pure intuito il mio dubbio. E in pochi giorni la tensione tra noi si era fatta insostenibile. Ci lasciamo senza una parola. Egli aveva un'aria di sfida. Minacciosa. Di nuovo la città mi accolse. Era la città della mia fanciullezza questa volta. Pur rinunciando a cercare per le strade e per i giardini la bimba di quindici anni, innanzi io mi sentivo circondare nelle mie ricognizioni da un'atmosfera familiare. I viali immersi nella nebbia, le piazze dai contorni imprecisi, le file dei fanali. La sera, lungo il naviglio deserto, mi mostravano la stessa fisionomia di un tempo. Lì avevo ricevuto da mio padre la prima impronta intellettuale. Lì avevo appreso il rispetto, quasi il culto per l'energia umana. Fin da bimba avevo sentito in modo confuso come, nella città, l'uomo dia una sfida incessante e superba alla natura, per lui limitata e insufficiente. In verità, circoscrivendo in certo modo la sua prigione, l'uomo si sente tra le mura cittadine più libero e possente, che è sotto l'infinito cielo stellato, che è dinanzi al mare e alla montagna incuranti di lui. Ciò spiega anche l'ostentazione del progresso che le metropoli offrono. Certo, qui, come a Roma, come nel villaggio quasi sempre, il motivo dello sforzo era egoistico. Gli esseri si premevano, correvano e sembravano indifferenti gli uni agli altri. Ma un sordo agitarsi di coscienze si intuiva tra quella rete fitta e tumultuosa nei grandi sobborghi operai, nelle scuole, nei comizi. Coscienze che si orientavano verso una visione ancora confusa, che trovavano stimolo al lavoro in qualcosa di non tangibile, in un sentimento di reciprocità, di solidarietà col passato e con l'avvenire, in una vera estensione d'amore nello spazio e nel tempo. E alcuni uomini e alcune donne, con serena pazienza, promuovevano quasi da soli tutta quella germinazione. Un'ideale corrispondenza era fra essi e la mia vecchia amica di Roma. Già in lei avevo ammirato e invidiato il potere animatore e propulsore che una forte volontà altruistica può esercitare nella città moderna. Andavo con mia sorella a visitare i luoghi dove si iniziavano tentativi di riforma, dove si abbozzavano gli schemi della convivenza umana a venire, e osservavo trepidamente svilupparsi in lei il desiderio di partecipare, fosse anche in minima parte all'azione di non passare ignara e sterile accanto alla vita. Da che era arrivata a Milano aveva condotto un'esistenza malinconica. Troppo sola, sempre, e senza preoccupazioni e senza occupazioni. Il babbo viaggiava quasi sempre, malato di instabilità, irrequieto e scontento. Nostro fratello si era impiegato in una fabbrica e sperava poter arrivare presto a provvedere da solo a sé e alla fanciulla. Frequentava l'università popolare, leggeva molto, aveva alcuni compagni interessanti, ma capiva di trascurare un po' con la sorellina. Averbe bisogno di un'amica? Che cosa posso fare io per lei? E la ascoltava con i suoi grandi occhi dilatati, dolce fiore di giovinezza, che oscillava in esaltamenti e depressioni per la mancanza appunto di uno stimolo continuo, vigoroso e tenero insieme. Temeva ad essere la vittima estrema dell'errore che aveva unito i nostri genitori di portare il loro irrimediabile dissidio nel proprio carattere. E ripeteva, se ti avessi vicina un po' sovente, e sembrava scrutarmi nell'anima, interrogare l'avvenire. Con gioia e timore insieme rilevavo in lei quest'ansia dello spirito, principio veramente di una più alta esistenza di cui avevo in parte la responsabilità. Avrebbe la vittoria coronato lo sforzo suo e del fratello? Entrambi mi rappresentavano, l'uomo e la donna d'oggi, alla soglia della vita, la loro tristezza e la loro speranza, mentre l'una deve ancora spezzare vincoli esteriori ed interiori per conquistare la propria personalità, l'altro ha bisogno di essere visto, di essere guardato negli occhi da lei come da un'anima che sa e vuole. Avrebbe trovato ciascuno l'essere che poteva accompagnarlo nella vita, partecipando a tutte le gioie e a tutti i dolori? In certi momenti mi dicevo che mi sarei ritenuta fortunata nella mia sventura se avessi potuto imbattermi prima di morire in qualche umana coppia perfetta. Ripensavo ai due giovani fidanzati intravisti il giorno della morte della mia amica a Roma. Sì, qualcuna già poteva, doveva esistere e rapidamente suscitarne altri esemplari intorno. Nella mia fantasia, frattanto, erano un tormentoso sconforto alla squallida condizione in cui giacevo e mi cantavano nella mente le parole che i poeti non dicevano ancora. Intermezzo di vita Mi sentivo alacre, volonterosa, forte. Tutto quanto avevo accumulato nella mia anima durante i mesi di solitudine laggiù balzava adesso in limpide formule. Quasi una purissima gioia di creazione mi invadeva quando consideravo dentro di me l'ideale di creature che non portassero più nelle vene come me, come i miei fratelli e mio figlio, un sangue di perenne contesa in cui un'unica volontà parlasse, nell'esempio e nel ricordo di genitori amanti e attivi, nella speranza di una sempre maggiore serenità di vita, nel futuro, nel futuro. La certezza ad un tale avvenire mi si era andata formando inavvertitamente, forse dall'adolescenza, forse prima, quando l'atmosfera penosa della casa, dove due cuori avevano cessato di comprendersi, mi aveva rivolta l'anima alle indagini appassionate. Come le aveva perseguite il mio temperamento logico ed assoluto, attraverso ogni ostacolo, a tratti un senso di ammirazione quasi di estranea, mi prendeva per il cammino da me percorso. Avevo la rapida intuizione di significare qualcosa di raro nella storia del sentimento umano, di essere tra i depositari di una verità manifestante, sì qua e là, dolorosi, privilegiati e pensosa. Mi chiedevo se sarei riuscita un giorno ad esprimere per la salvezza altrui una parola memorabile. Mio marito mi ricevette alla stazione del paese con un certo impaccio. Si occupò specialmente del figlio nel tragitto verso casa. A casa la domestica mi avvolse in uno sguardo trepidante che mi sorprese. Capitolo 21 Ma erano lì anche mia suocera e mia cognata. Dovetti comporre il volto alla calma cortesia che usavo con loro, assistere alle feste che se prodigavano al bambino un po' restio, un po' annoiato. Osservavo mio marito e mi stupivo di trovarlo inverosimilmente invecchiato, con la traccia di un guasto interno su una maschera pallida e contratta. Possibile che poche settimane soltanto fossero scorse da che ci eravamo separati. Ehi, anni mi parevano. Più ancora mi pareva di non avergli mai appartenuta. Tanto lo sentivo lontano da me, estraneo. Quando restamo soli, egli mi disse di una indisposizione avuta durante la mia assenza. Parlava abbondantemente e confusamente. Si trattava di cosa leggera a un ritorno, diceva, di un'infezione avuta molti anni addietro da soldato. Qualcosa mi balenò alla mente, come la confusa reminiscenza di parole udite quando, in città, dalla dottoressa. Roba da nulla, egli ripeteva, senza conseguenze. Aveva dovuto osservare l'immobilità per alcuni giorni. Ora era guarito, ma il medico avrebbe voluto che continuasse a riposare, ciò che non era possibile. La narrazione era intercalata da brevi, soffocate bestemmie, espressione familiare dei suoi rammarichi. Ascoltavo in silenzio, incapace di rendermi conto esatto della realtà. Egli si alzò, mi prese tra le braccia con una esitanza quasi irrispettosa che non gli conoscevo. Cercava le mie labbra, istintivamente piegai il capo. Egli mi posò la bocca, assommo della fronte, mormorando, sei buona tu, tanto buona, non ti merito. Coricati, il suo desiderio alitava caldo intorno alle mie membra. Una frase remota, il ricordo di un sorriso amaro sul volto della dottoressa. Un giorno, a Roma, mi lampeggiarono di nuovo alla mente e un impeto indomabile, selvaggio di difesa, mi invase. Egli desisté dopo un istante di ore, stai fremente a rango come uscita da un bagno di fiamme. Il di dopo, venne il medico di un paese vicino, parlò di riposo, di cura e se ne andò avvolgendomi in uno sguardo ambiguo. Anche la domestica aveva uno strano modo di guardarmi o piuttosto di distogliere gli occhi dai miei. Infine, si lasciò sfuggire che il padrone era stato in città alcuni giorni dopo la mia partenza e che al ritorno si era ammalato. Benché non l'interrogassi, aggiunse, non mi fate dire altro. Non ce n'era bisogno. La fantasia mi tracciava ora una scena dai contorni sfuggenti. L'uomo che in un giorno di irritazione andava a picchiare a una porta infame. Vedevo l'onta di colui presso i familiari, la sua risoluzione di nascondermi tutto, i sotterfugi. Che cosa poteva in tutto questo sorprendermi? Nulla! Come se un ritratto, alla cui esecuzione avessi assistito giorno per giorno, mi si mostrasse finalmente completo, perfetto. E non gli dissi una parola. Le mie labbra non avrebbero potuto disserrarsi, anche se l'avessi voluto. Feci preparare in una camera, accanto a quella del bimbo, il letto per me. E la sera, prima che gli uscisse dal suo solito giro in fabbrica, lo avvertì. Egli impallidì un poco, ma forse era preparato e mostrò a non dare importanza al fatto. Questione di giorni, brontolò. Un ribrezzo profondo. Mi dominava ogni volta che lo vedevo rientrare in casa. Egli manteneva un'aria di vittima infastidita e pareva non supporre in me nulla di nuovo. Si compiaceva nell'ascoltare ed esperimentare i consigli empirici di sua sorella, e allorché non si lagnava delle malattie che colpiscono chi me se l'aspetta, dava sfogo alla credine contro i socialisti che tendevano in quel tempo a suscitargli uno sciopero. A volte, sorprendendomi seduta accanto al bimbo, con il capo appoggiato alla testolina di lui, intenta a leggergli una storia o a commentargli un'incisione, aveva una contrazione maligna delle labbra e non reprimeva qualche motteggio. Volevo fare uno scienziato anche di quel poverino? Studiava il piccino adesso e l'intimità dei nostri cuori pareva aumentare in quel destarsi della sua intelligenza, in quelle prime emozioni del pensiero. Mentre egli al tavolino faceva i suoi esercizi, io scrivevo o leggevo, interrompendomi per rispondere alle sue domande. Passavano minuti di dolcezza e di pace. Poi, quando egli mi lasciava per andare a giocare, un gelo mi invadeva. Sfogliavo in quei giorni, con una strana volutà, il giornale intimo di Amiel. Fantasmi popolavano il mio studio. Mi apparivano dinanzi fra le piante del giardino o in mezzo alle vie maestre o in riva al mare. Mia madre, giovane, accanto alla culla delle mie sorelle, in atto ad accettare la sua sorte atroce. Questo filosofo ammalato, curvo sulla sua scrivania, ad esprimere il suo dolce pessimismo in tessuto di lacrime e di ruggiti repressi. Un famoso scrittore nostro, infine, una delle mie ammirazioni d'adolescente, a cui poco innanzi il figlio ventenne era morto, vittima forse del dissidio tra i genitori. Simboli sanguinosi della vanità, del sacrificio. Esempi terribili del castigo incombente su ogni coscienza che si suicida. Non ero io una di queste coscienze. Non mi era bastato il ragionamento e l'intima persuasione. Avevo continuato ad appartenere ad un uomo che disprezzavo e che non mi amava. In faccia al mondo portavo la maschera di moglie soddisfatta, in certo modo legittimando una ignobile schiavitù, santificando una mostruosa menzogna per mio figlio, per non correre il rischio di essere privata di mio figlio. Ed ora, ultima avviltà che ha vinto tante donne, pensavo alla morte come ad una liberazione. Mi riducevo anche a lasciare per morire mio figlio. Non avevo il coraggio di perderlo per vivere. E a tratti, come un vento di follia, mi investiva. La sera, dopo aver sopportato la conversazione dei parenti, se restavo sola di fronte all'uomo che mi avviliva coi suoi sguardi e i suoi tentativi di riconciliazione, mi lasciavo trarre a lanciare parole tagliente contro i lagni che gli esalava sulla crisi dell'industria e l'atteggiamento degli operai. La mia voce si faceva acuta, quasi smarrivo il significato delle mie parole. Allora una vocina mi interrompeva d'improvviso. «Mamma!» E dopo un momento, «Vieni, mamma!» Mi riscuotevo. Mi recavo al buio nella stanzetta dove era coricato il bimbo. Egli vedeva la mia ombra nel vano della porta, mi chiamava di nuovo, più sommesso, «Mamma!» E come mi sentiva presso il letticciolo, traeva fuori le braccia, ma afferrava il collo, mi attirava il capo accanto al suo. In silenzio mi passava una mano sugli occhi e sulle guance. Sentivo il tremore delle dita tiepide e morbide che voleva la caranima. Accertarsi che io non piangevo? Che il papà non mi faceva piangere? Mi gettavo attraverso il letticciolo e i singhiozzi montavano, infrenabili. Lì soffocavo nelle coltri, sentendo di nuovo la parola tremante, «Mamma!» E il mio viso era bagnato di lacrime mie, sue. Imploravo in cuore, «Perdono! Perdono, figlio!» E a lungo restavo lì, china, senza parole, attendendo per il piccolo essere il sonno pietoso. Per me è l'atonia che segue la crisi. Un giorno arrivò un telegramma che mi annunziava le condizioni disperate di un mio zio di Torino, fratello maggiore di mio padre, che mi aveva sempre dimostrato il suo affetto attraverso i tempi e le vicende e più volte mi aveva beneficata con doni e prestiti di denaro. Nei tempi difficili di Roma, specialmente, egli era l'opposto di mio padre, con tutte le caratteristiche del borghese lavoratore, limitato nelle idee, ligio alle usanze, soddisfatto di sé ma profondamente buono. A lui riportavo tanti miei ricordi di infanzia e nonostante l'immenso divario di principi e di sentimenti, mi ero sempre commossa ad ogni incontro col caro vecchio pingue, roseo e burbero a cui una ventina di nipoti, figli dei vari fratelli e sorelle facevano corona. Sarei stata in tempo a rivederlo un'ultima volta, ma avrebbe riconosciuta. Mio marito mi fece partire la sera stessa, dopo simulati, tentenamenti, dandomi riguardo al mio contegno verso il ricco zio e i parenti delle raccomandazioni che mi gelarono ogni spontaneità. Così sempre la vita, dunque. Al mattino, dopo l'eterno viaggio notturno, trovai ad attendermi sotto la tettoia fumosa mio padre e una sua sorella. Mi chiedevano del mio stato, mio padre si lagnava delle ferrovie, la zia rimproverava a lui di non avermi ancora baciata. Tanti anni che non sentivo le braccia paterne attorno al mio collo. Lo zio era morto nella notte. Era sparita, una creatura del mio passato, forse la sola che avesse pensato a me come a una pianta dell'antico ceppo. Avvertivo un vuoto e insieme come un senso di liberazione. Così le nuove generazioni, quando si staccano dalle vecchie, soffrono e sognano. Restai a Torino tre giorni. Attorno al cadavere alitavano le brame dei nipoti, eredi diretti e quelle d'altri parenti numerevoli. Mi sentivo sollevata quando il babbo mi traeva lungi dal lugubre spettacolo e camminare con lui per le care tranquille vie della città nativa. Egli mi parlava un po' stancamente e pareva che entrambi assistessimo ad un ritorno di tenerezza con mite stupore, rassegnati a vederla ben presto di leguare. Eravamo ormai ben automi, il babbo e Dio, ognuno nella propria strada errata. Non potevamo scambiarci lamentelle o consigli, né supporre possibile un futuro aiuto vicendevole in un giorno di riscatto o di disastro. Ci limitavamo ad ascoltare ciò che restava in noi dei comuni entusiasmi di un tempo, ad osservare ciò che ancora avevamo di identico negli istinti e nelle tendenze. Fu lui a comunicarmi il contenuto del testamento. A me erano assegnate 25.000 lire, ai miei fratelli solamente cinque. Perché? Ne provai un'amarezza fortissima. L'impulso subitaneo a dividere la mia parte con i meno favoriti e una torbida sensazione di vergogna si mescolava a questo dispiacere, quasi venissi un poco diminuita ai miei occhi dalla possessione di quel danaro non guadagnato col mio lavoro, da quel privilegio sia pur minimo che ricevevo non solo sui miei consanguinei, ma su tanti altri fratelli, proprietari unicamente di un paio di braccia e di una volontà attiva. Non di meno, sormontata all'acuta e complessa contrarietà, non potei non pensare all'importanza pratica che il fatto assumeva per la mia vita. Io acquistavo l'indipendenza materiale. Quella somma? Poca cosa, certo. Sarebbe stata sufficiente però ad assicurare il sostentamento di mio figlio quando io dovessi col lavoro provvedere a me stessa. Una clausola del testamento disponeva che esso venisse eseguito solo sei mesi dopo. Informai mio marito annunziando il mio ritorno. Sentivo di poter essere ora più esigente di fronte a lui. Avrei reclamato delle vacanze, dei viaggi, avrei potuto comprare libri per me e per il figlio senza mendicare sempre il permesso. Una bizzarra ipotesi si affacciò tra quei vaghi progetti. Io avevo in qualche parte della penisola un amante. Lo raggiungevo di tratto in tratto, mi dissetavo di passione, di ebrezze, indi rientravo nella casa triste a riprendere il gioco che il mio cuore di madre non riusciva a rigettare. Non ingannavo nessuno perché mio marito sapeva che lo disprezzavo. Soddisfacevo a un diritto del mio essere. Accumulavo la forza di resistere e di sopportare. Pazzia. Potevo ben lasciare la briglia alla fantasia, ma se non vedevo chiaro quello che avrei fatto, sapevo troppo lucidamente quello che non avrei fatto mai. Avevo la sensazione che l'avvenire già esistesse dentro di me. Una soluzione facile o difficile, più o meno lontana, ma certa, quasi fatale. Ero arrivata al mattino. Il bimbo giocava con le marionette e io lo assistevo, seduta con lui sul tappeto. Mio marito leggeva i giornali taciturno. Non c'eravamo scambiato ancora una parola. Venne mia cognata, Ilare, leziosa. Attendeva da me delle notizie che non mi affrettavo a darle e a un certo punto non resistette. Dunque, dunque, siamo ricchi, eh? Tenevo la testa a china sulla baracca dei burattini e non la sollevai. Il bimbo non aveva sentito, intento come era allo spettacolo, ma la voce stridula continuava coprendo le parole che suggerivo ai miei personaggi. E il nostro caro figliuolo ora ha una fortuna in più. Ah, voglio vederlo, padrone del paese un giorno. I due cari occhi turchini mi fissarono ora. Dicevano, Continua, mamma, non dar retta. Io non ascolto che te, la mia vita me la fai tu sola. Avanti, sì. Ma alla notte stavo per coricarmi a franta quando l'uomo entrò nella mia camera dopo una lotta atroce. Sola nel buio invocai una volta ancora la morte. Il mattino seguente lo dissi al bimbo, piano, forse morirò, sai, ma tu non dovrai piangere. Dovrai soltanto ricordarti. Morire. Dentro al mio cervello mi pareva di sentire come un gruppo duro e pesante che si rimuoveva, si sviluppava e un pensiero vi si illuminò sinistramente. Anche lui, mio marito, avrebbe potuto non esistere più. Gli esseri che si agitavano intorno a noi muoiono. È come un alito, spariscono. e tutti gli altri uomini camminano, vi guardano in faccia, parlano e non lo nominano più. È come se non fosse mai esistito. Così poteva pure avvenire in me. Ma e mio figlio? Invece ora, dopo, io e mio figlio, soli. Ecco, giravo per la casa, mia, nessuno. Uscivo in giardino, nella via, ecco il mare, i paesi lontani e in questo mondo, immenso, liberi, liberi, io e mio figlio. Era un sogno ad occhi aperti. Grazie a tutti.